Le ricettive 56, 124 aggetti e servizi e 11 di aziende no gastronomiche hanno presentato 191 offerte turistiche. Si è andata a vendere alla fiera. I buyer, a fianco ancora, avete la provenienza dei buyer che sono venuti nello stand del Molise. 298 dall'Italia, il resto dal mondo. Vi faccio solo vedere Croazia 10, Canada, Russia 9, Olanda 2, Paesi Bassi, Faina, Romania, Giappone, uno dello Sri Lanka pure. Avete tutti i dati precisi della presenza dei buyer dagli Stati Uniti 26, USA. Abbiamo cercato di dare qualche indicazione sui servizi media nazionali e internazionali. Non è esaustivo, ovviamente, perché da Canale 5, Telenorba, Lombardia TV, This Is It, Italy, It dell'Olandese, Rai News, Anza Nazionale, Laci Nazionale, Horizonte Scuola, Il Giornale di Sicilia, Turismo Italia, ci mancano una hit, Turo Small. No, resti al sud, America oggi, cicloturismo, più tutti i servizi che avete fatto voi. E questo è il riscontro della... Nella hit, noi, andando su eventi organizzativi, siamo stati presenti con due iniziative. Il convegno, io promuovo il mio paese, che ha avuto la sala messa a disposizione piena, 288 persone che hanno seguito, io promuovo il mio paese. Lo show pubblico del nostro piatto osmosi, l'unione di mare, colina e monte, ha avuto 415 persone ad assistere al show pubblico di The Isle. Questi sono i dati ufficiali della vita. Giustamente, ci viene detto, ma i dati ufficiali poi devono avere un rispondo sul territorio, perché se no, avete fatto una grande parata, una grande iniziativa, avete suscitato interesse e così via. Bene, allora, io faccio notare innanzitutto, che la prima bit l'abbiamo fatta ad aprile del 2017. I primi sei mesi, che prendiamo in considerazione oggi come dati, i primi sei mesi del 2017 abbiamo avuto un meno 12,70%. Io parlo sempre di presenza, le presenze. Ma ci possono avere questi dati? Aspetta, questi ce l'hai perché tra me l'abbiamo scosso. No, perché non compro. Ma questo per dire, c'è stata la... Da giugno del 2017 c'è stata l'impresione di tendenza, per cui alla fine dell'anno abbiamo avuto un più 2,5% di presenza. Questo per dire, da quando siamo andati in vita, i numeri che vengono fuori. Veniamo a quest'anno, il foglio che distribuiamo. Prego. Poi ognuno può fare tutti i calcoli che vuole. Io metto in rilievo qualcosa, possiamo fare un po' di più. Allora, i primi sei mesi di quest'anno, in rapporto al 2017, abbiamo un totale di 47,9% in più. 47,9% in più. Sì. Vale a dire, 57,450 presenze, a fronte di 38,835, se passate li avete nei fogli che vi sto dando, io ve lo metto in evidenza. Cioè abbiamo avuto 18.625 presenze in più, moltiplicate la media minima di 50 euro, vedete anche l'aspetto economico immediatamente. Le primi sei mesi. Le strutture ricettive. In gennaio. Non posso dare lungo. Gennaio 2017, gennaio 2018. Se leggete, abbiamo un totale di 57,450, totale 38,335, 800, scusate, giusto, bravi, 38,835, la differenza è il 18.625. Abbiamo avuto meno 80 stranieri. Ecco, il dato è... Il dato è... I stranieri hanno mantenuto la presenza di... Gli italiani invece sono aumentati di gran punto. Questo è il totale. Se poi metto in evidenza, girate pagina, quello degli alberghieri, gli alberghieri hanno avuto il 59,6% in più. Cioè la gente è andata... E' andata negli alberghi in più. Vale a dire, 44.239 presenze a fronte delle 27.717 presenze dell'anno scorso. Vale a dire, un saldo positivo di più 16,522. Faccio notare che è il 46% del totale dell'anno scorso. Cioè la metà dell'anno scorso praticamente si è avuto nei primi sei mesi di quest'anno. Grazie a tutti.